Ci siamo, è tutto pronto a quanto pare, mancano soltanto loro, è arrivato finalmente il momento di chiamarli sul palco, scendono in campo con i loro team, i nostri quattro coach signore e signori, Piero Pelù, Raffaella Carrà, J-Ax e Noemi Ho capito chi sei, non ti importa di niente, tu ti menti di tutto senza alcun rispetto, neanche per noi, ruggi amore così come gli insipiti per buttarmi nel ciasso, tanto tu non lo sai, quello che sai A dove vai? A dove vai? Ancora mai sei via, faccio così, passo di lì, mi prendo e mi porto via Oh oh, ci siamo di voi, fatemi sentire un urlo A dove vai? Ancora mai sei via, a dove vai? Ancora mai sei via, ma non con l'atto, J-Ax, volume alto, come la camera coltà con lo sfalto, vengo un ride, faccio un ride, nella vita come nel canto, ci vogliono palla e coraggio, come Piero Pelù al primo maggio, come Noemi, oggi i cantanti mi banto, del voice funziona, tu chiamo la sfalto, come dico la Roma è un taglio A dove vai? A dove vai? Ancora mai sei via, faccio così, passo di lì, mi prendo e mi porto via A dove vai? A dove vai? Ancora mai sei via, faccio così, passo di lì, mi prendo e mi porto via I venti finalisti di The Voice of Italy guidati e allenati dai nostri quattro coach, signore e signori, Piero, Raffaella, J-Ax e Noemi Vorrei invitare i venti campioni a raggiungere il backstage, a prepararsi, a raggiungere la concentrazione giusta perché fra poco si esibiranno su questo palco Questo palco sarà loro, stasera li sentiremo cantare tutti e venti Ancora un applauso ai nostri coach E raggiungere le loro poltrone rosse Poltrone, cari coach Dalle quali avete preso decisioni importanti in queste puntate Dalle quali avete deciso e costruito I vostri team I vostri team